Ieri pomeriggio l'assessore alla famiglia del comune di Giarra Enza Rosano insieme al dirigente Maurizio Cannavo e al capo servizio Anna Vasta hanno incontrato una nutrita rappresentanza delle cooperative sociali che operano nel comune di Giarra a favore di minori, anziani e disabili assistiti nel nostro comune. In merito a tale riunione l'assessore Rosano ha dichiarato è stata loro rappresentata la situazione economica e finanziaria dell'ente e abbiamo ascoltato le loro esigenze specialmente per quanto riguarda i pagamenti effettuati in ritardo e lo snellimento burocratico per tali adempimenti. Le cooperative, continua l'assessore, hanno esposto le loro ragioni in merito alle enormi difficoltà che stanno affrontando per la gestione dei servizi affidati, per il regolare pagamento degli stipendi ai propri dipendenti e relativi contributi previdenziali. L'assessore Rosano ha illustrato quanto messo in atto finora per affrontare la situazione di difficoltà attuale ed ha assicurato il massimo impegno al fine di garantire a breve i pagamenti dei servizi sotto conti regionali, cioè di quella parte di fondi che periodicamente vengono erogati dalla regione siciliana e che sono rimasti bloccati a causa delle note vicende con la tesoreria comunale. Inoltre, ha aggiunto l'assessore, è stato illustrato un piano di pagamento delle somme poste a carico del bilancio comunale che avrà decorrenza dalla fine del mese di aprile. L'amministrazione comunale si è assunta l'impegno di rendere sempre più celeri i tempi burocratici necessari al disbrigo delle pratiche di propria pertinenza, al fine di poter giungere ad una corretta regolarità dei pagamenti che rispetti quindi il diritto dei lavoratori a ricevere in tempi certi quanto dovuto, conclude così l'assessore Rosano.